Ciao a tutti ragazzi, sono Denna e benvenuti nella 64esima puntata della serie americana. Oggi siamo qui con... Grego, ciao a tutti. Samuele, ciao a tutti. Eccoci qui, Grego, ma guarda che ripino. No, fertilizzante serve. Allora, stiamo riempiendo qui Grego che adesso deve andare giù al 21, anche Svitol devono andare giù al 21 a seminare mais. Avete tutti i due seminatrici col fertilizzante? Sì, aspetta, non lo so. Sì, sono sicuro che è il 64esimo, ho detto prima, mi fa venire il dubbio, ma sono quasi sicuro che è il 64. So, riempi tutto per sicurezza. Vediamo. Sì, 64. Apposta, ma sta i semi? Ma perché mai veniva il dubbio? Già, ci ho guardato due volte. Allora... Forse ora no... Ok, penso sì. Forse ora non sto più laggando, ragazzi. E ve lo dico veramente, cioè nel senso della parola. Non sto più laggando perché... Più o meno... Non ho mai fatto altro. Non so sicuro che... Non so sicuro che... Non so sicuro che... Mi devo mettere le destrette? Sì. Sulla playlist di Youtube si arriva fino al 83. Vabbè, 64esimo giudicato. grazie di una miseria un attimo rivedere io ho scritto 63 è l'ultima che ho caricato, ho sbagliato anche quella allora 83 video, è vero? sì, 82esima parliamo della season e poi ho registrato la 63 no, allora questo 83 e quindi ragazzi, ciao a tutti ragazzi sono Dan, benvenuti nella la 84esima contatta Grego, ciao a tutti giustamente ora no, ok ho un tubo, mi si scollega, quando faccio alti tab su farming mi si scollega il joystick devo sapere perchè devo scollegarlo e ricollegarlo te la metto all'USB perfetto oh oh allora, pecore e animali diamo un'occhiata se hanno bisogno di qualcosa questi nostri animali no mo, che pecore, no pecore sono a posto ora ragazzi, per la gioia di Simo, che purtroppo è un mese con il doppio manettino non lo che se, ah eccolo che purtroppo stasera non c'è, perchè ha parenti andiamo a prendere il cartino degli animali e andiamo a comprare forci volevo andare a comprare le vacche ma mi viene in mente della roba anzitutto andiamo a vedere il pallet delle pecore che leggo 89, magari ce ne è già tutti e quattro posizionate e quindi è un casino no, no, va tranquillo e spegniamo il mezzo allora, per le... se mi metto così forse poi non mi si vede più fammi controllare, almeno lo so, per le future puntate no, mi si vede posso mettermi tipo anche... così, no, sì, ok, mi si vede allora, gli serve acqua, che non è assolutamente un problema paglia, che non è un problema erba insilato e cibo energetico sapete cosa facciamo? Andiamo a comprare un caro miscelatore andiamo a comprare sto caro miscelatore che ci torna ci torna utile poi è uscito un caro miscelatore, mi sembra che è proprio una roba abnorme tipo un tre assi mi ricordo un beacon che c'era per il 13, una roba del genere poi magari in futuro prenderemo quello invece che metterla mixing station, mettiamo quello scusate speed limit 35, 35.000 all'ora sono circa 50, sono 60 all'ora allora qua mi devo sistemare i capelli perché come avevo detto non ci stanno manco qui dentro le cuffie, cioè non mi stanno manco con le cuffie in testa qui noi come al solito tagliamo sui marciapiedi perché non li possiamo siamo gli agricoltori di tutto Nord America perché a giudicare l'America gold crest non so di dove sia però la cresta d'oro eh, cresta d'oro la dorata sarebbe golden crest ma mi devo cercare di mettere in un modo tipo così stare, perché mi si è rallentato stare alto almeno voi non vedete le luci dietro dovrei metterla webcam eh no, vedi proprio così forse devo venire più avanti metterla sopra il monitor solo che poi sopra mi inquadra in basso non mi piace preferisco dal basso verso l'alto così molte volte guardo lì e eh, sembra che quasi sto guardando nella webcam trattori, no metti là in mezzo allo schermo eh, con scotch eh due giro di scotch allora questo qui assolutamente bisogna prendere compriamolo infatti dicevo dove è che managgia ha rubato spandilettame ce l'abbiamo, vero? spandilettame, sì l'abbiamo comprato c'è mica qualcosa in sconto orto a vedere che in sconto c'è quello grosso mica mi costa ah, sempre sto T7 in sconto manco già avesse il doppio manettino 27 allora, eh, andiamo qua fatemi un attimo ragionare allora so che è una roba che non andrebbe fatta tanto nella realtà ma questa abbonateve la ragazza che vorrei ripristinare il caricatore del 724 per non andarlo a riprendere in farm che lo abbiamo circa dov'è il caricatore qua? da queste parti ce ne è 3000 caricatori qua da queste parti provalo con lo giusto eh, questo qui è il 30 o il 60? è il 60 dovrebbe essere il Fend spero arcade vabbè non muore nessuno non muore nessuno anche se ci mettiamo il caricatore rosso sul trattore verde eh, ma ora qua mi costa riparare ho fatto una cavolata cioè potevo andarlo a fare su ora mi costa tipo 1600 euro a metterci al caricatore qua avanti in cura caricatore a 1000 euro devo spendere come se vabbè non ho voglia di andare su per qui però stavolta li spendo allora attacchiamo il caricatore sta venendo in mente che potevamo prendere anche l'altro eh dai ma che cos'è non si va a guidare oggi comunque ping è che basta non sale sopra i 30 va bene allora devo agganciarlo sul cofano no sul cofano no però non sulle ruote allora noi abbiamo anche una pala forse abbiamo questa qui piccolina bene universale non è del trattore questa nemmeno no quella piccolina allora dove qui bene universale si ok ma è possibile ma è possibile ma io sono sicuro di aver ripristinato quella giusta c'è scritto stola a fianco ora mi è conforto allora la finiamo di far dei fail stasera qua no non è questa qual'era che ho letto stall questa non la è c'erano due una a fianco l'altra qui stall io ho convinto di ripristinare questo non ho ripristinato un'altra roba tiriamo su questa mamma mia stasera sto facendo dei casino così poi dobbiamo anche ripostare il birocino da qua l'ho preso da quello delle pecore sì da questo qua quindi ora faccio un altro fail e rimposto l'altro che c'è no la botte no la forca vabbè giustamente è sotto di me ok perfetto quando finiremo di fare dei fail cioè noi siamo arlecchino abbiamo il caricatore rosso la benna nera il trattore verde di più non si può dire allora ricordiamoci per fare l'azione mista giusta sono 4.000 di fieno di erba 4.000 di paglia e 4.000 e poi il resto insilato per questo caro miscelatore io ho sempre avuto così le balle mi sembra che valgano sempre 4.000 anche su 17 per cui c'è una balla vale 4.000 possiamo fare il posto allora mi sembra che tutto il nostro insilato sia qui non ce ne sia il biogas è in cura no questa puntata sarà intitolata fail oggi non c'è Matteo bisogna colmare il vuoto ma che mestiere ma come si fa una benna che è piccola come il cervello di Matteo sotto un trattore da 240 cavalli con di tutti i colori diversi allora quanti litri ci abbiamo scaricato dentro non voglio niente a vedere ma quanto porta sta bene 1.000 1.000 1.000 facciamo circa 2.000 facciamo due bennate intanto la paglia è quella che ce ne vuole di meno puoi anche non metterci poi mettiamo un'altra erba erba ve ne facciamo che ne so due bennate mese anche tre bennate anche anche tre bennate sì ok da quant'è da quant'è che non prende l'erba non l'ha sempre presa l'erba sciolta non è pieno oltre semmai io c'ho sempre l'erba la prendeva la prendeva pressata l'erba ma io mi ricordo che sulla non abbiamo ancora la possibilità va bene basta io mi ritiro da farmi non so più giocarci non so più giocarci ti è stancato troppo no sarò io che sono stanco non lo so questo è un gesto Matteo siamo stati contagiati quant'è compattamento 60% portiamociolo su in farm 3.700 litri vabbè adesso andremo a sfalciare poi voltiamo raghiniamo pressiamo insomma un casino detto questo ragazzi io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan Grego Beagle è tutto ciao a tutti ciao a tutti